Ragazzuole e ragazzuone, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Anche oggi vi porto una challenge su Fortnite veramente spettacolare E sto parlando ragazzi di una challenge che io personalmente non l'ho mai, mai, mai fatta E mi è stata consigliata dai ragazzi, mentre che ero in live streaming su Twitch E ragazzi, la challenge di oggi è veramente fotonica Perché ogni volta che andrò a fare una kill, ovviamente il ranked real in solo Specifichiamo questa cosa, quindi la difficoltà ovviamente aumenta Ogni kill dovrò abbassare i miei FPS del gioco Quindi ragazzi è una challenge abbastanza complessa se fai ovviamente tante kill E io ragazzi, ovviamente, potevo non arrivare agli FPS più bassi che si possono avere su Fortnite? Chiaramente sì Come sapete ragazzi, peraltro, io gioco a 360 FPS perché il mio monitor gira a 360 Hz Quindi chiaramente devo fare diverse kill per arrivare agli FPS più bassi che ovviamente il numero è di 30 E ovviamente ragazzi ci sono arrivata e questo vi fa già capire che ho fatto le kill sufficienti Per arrivare letteralmente alla challenge proprio estrema Quindi ragazzi, mi raccomando, dobbiamo di cominciare con il video Un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E vi ricordo che mi trovate live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Inoltre ragazzi, molto molto importante se volete diventare più forti a fightare, a buildare, a editare Quindi diventare dei veri e propri demoni Vi consiglio di giocare la mia mappa 1v1 con le ranked, quello che trovate qui sotto è il codice della mia mappa Trovate tutte le armi della season e gli FPS e le performance in questa mappa sono assolutamente al top Perché gira tutto completamente alla perfezione Giocatela, allenatevi e diventate più forti Codice qui sotto Ora però ragazzi direi di non perderci più in cacchiere e di passare al video challenge Io vi auguro una buona visione Se vorrei andare in una zona buona, capito? Solo che Gran Giacciaio, anche se è zona gialla, non voglio andarci troppo distante Cioè non facciamo nulla secondo me in start Quindi o proviamo nuovamente Doomstat o proviamo Doom Corsiard Facciamo Doom? Forse c'è più gente? Forse Doom ci potrebbe essere più gente rispetto a Doomstat perché è un pochino più lontano qua Vai proviamo la Doom Proviamo il Corsiard di Dooms Allora gli FPS sono a 360 Perfetto Sono i miei FPS quindi si riparte dalla mia base Non dimmi che non c'è No ragazzi Ok c'è uno? Ok c'è un team C'è una persona, meno male, almeno uno Se mi contesta la cassa provo a farlo di R Faccio sto big e andiamo Proprio instant Prima che trovo troppo loot Perché là dovrebbe avere lui massimo forse tre cassa Se gli va di culo Faccio il vehicle Godo, godo, godo Ok si abbassano 2.40 Ora ortiamoci tutta sta zona e poi andiamo subito a pushare gli alti raga Ok vado a pushare quello raga Easy kill 200 Mantiamoci il Fizz E abbassiamo i FPS Bene Devo abbassare i FPS subito 200 Mi sta pushando cattivo questo Oh c'è un big che c'è la voce di impulso Godo Dammi il medaglione amore mio Si va a 180 FPS raga Facciamoci il Fizz Ok questo è un ottimo start Abbiamo god loot raga Capuri con il medaglione del Siphon Che ciò ne sta facendo Ogni volta che faccio una kill Devo abbassare i miei FPS Io di norma gioco a 360 Quindi ho fatto già 3 kill Quindi ho dovuto abbassare di 3 slot Quindi per ora siamo a 180 Se faccio 10 kill Dovrei scendere sui 30 se non sbaglio Quindi i FPS più bassi che posso mettere su Fortnite In assoluto Che c***o è sto rumore? Ah me la capsula Ma la capsula raga mi droppa movement giusto? Ho troppo solo i gambali Eh raga riprendo che devo fare Se no non ho poco movement Cioè se no è veramente un parto eh Ragazzi Eh questo è il problema Ho iniziato il game da dio Ma non vedo nessuno Cioè non c'è nessuno raga Eh raga Eh gg Cioè immagino che sto cercando da mezz'ora Vado a vedere il medaglione Che devo fare? Vecchie build anche qua Vecchie build anche lì Eccolo Eccoli Eccoli Oddio non ci credo Devo fare 2 kill Viene a kill 2 kill Godo Arrivederci Quindi signori Abbassiamo di 2 slot 165 e 160 Sono 2 C'è il jetpack Ok Defendiamo il jetpack raga 100.000 volte meglio Onestamente Questo non mi sembra subito Non so perché ho questo feeling Non so perché ho questo Non so perché ho questo Per il fatto Ma Doi Godoo FPS 144 Oddio C'ho vicino a me 30 ragazzi C'ho vicino a me 30 Fightano Devo andare Eccolo eccolo Ho trovato Signori Andiamo ufficialmente A 100 FPS Ci avviciniamo al podio Oh mio dio Eh io butto Butto sto R raga Mi sa butto la OG Meglio lo SCAR Oggettivamente è molto meglio lo SCAR Senti la differenza ora Madonna se la sento Oh mio dio 3 FPS come sarà? Sì sarà devastante Madonna raga è pesantissimo il gioco What the fuck E io giacavo una volta con questi FPS Sì ho fatto Cioè io sono passata da Da 60 144 Per tipo Tipo 4 anni Poi 240 E poi 360 Anche se il 360 Non li reggevo bene Perché avevo un computer mediocre Madonna ragazzi ma fanno tutti un danno assurdo Comunque oh Dobbiamo attendere qua ragazzi Speriamo che la zona venne qua Quanto che devo fare per andare a 30? 2 kill e vado a 30 FPS Non ci credo Questo è quello di prima raga Questo è quello che mi ha fatto danno eh Ok crackato Buono Godo Oddio forse non godo Perché sono a 6 FPS Aiuto ragazzi Scemo al podio L'ultima kill per i 30 Oh mio dio No ragazzi i miei occhi Oh Mio Gesù Cristo No ragazzi No no ragazzi Oh Gesù Oh Gesù Tenete FPS in arrivo Pronti? Dai bro Devi morire Dai bro Sei morto Ce l'abbiamo 30 FPS raga Sarebbe una montagna di cambio eh Sono a 30 Porca Ok Ok ragazzi è ingiocabile Ok ragazzi è ingiocabile No ragazzi No 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 Cosa sto vedendo Non credo di sentirmi molto bene Farò un egg della madonna Oddio un ferrovero Oddio un ferrovero Sì sembra che sto vedendo una final delle solo Vi giuro No 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 What the fuck Vediamo come si builda Oddio ragazzi Oh comunque Comunque Con 30 FPS Con 30 FPS Le laserate che tiro Sono comunque uguali Non cambia un c***o Zio porco Zio porco non cambia niente Let's go raga L'abbiamo fatta Oh ci stava un botto Abbiamo fatto 9 kill Tonde tonde Alla fine Peccato che là Mi sono scappate 2 kill Perché quelli là L'avevo lasciati letteralmente A uno di vita Tutte e due Uno craccato con uno di vita E l'altro tipo Io avrò fatto tipo 175 Penso tipo una roba del genere Cioè proprio Spaccato completamente Madora ragazzi 30 FPS Out of mind Comunque la zona è finita In una posizione Mai vista raga Cioè su Su quel cilindro in mezzo Cioè Chi era dalla parte opposta Morivano per forza Per forza Morivano raga Ragazzi abbiamo fatto la win Con 3 FPS E alla fine Quando ho messo 60 C'era Cioè Già 120 Sentivo una differenza Abissale 60 ragazzi Era tipo Fuori di testa 30 Non ve lo dico Non ve lo dico Però comunque Abbiamo fatto Delle c***e Di kill Laserate Anche a 30 FPS Veramente Exotics Let's go raga Challenge fatta subito così Abbastanza Abbastanza fast Ragazzoli Siamo usciti a termine Di questo fantastico video Io mi sono divertita Davvero tantissimo E diciamo che Provare l'ebbrezza Di passare da 360 FPS A 30 Forse È meglio Non riprovarla Mai più Però come ho detto ragazzi Abbiamo fatto le kill Necessarie Per passare appunto Da 360 FPS Agli FPS più bassi Che si possono avere Su Fortnite Che chiaramente È di 30 E ragazzi Comunque Abbiamo giocato Alla perfezione Le laserate Con la R Erano devastanti E abbiamo fatto Una vittoria reale Veramente incredibile Quindi ragazzoli Mi raccomando Anche per questo video challenge Ovviamente Fatto con successo In ranked Unreal Un bel pollice All in su Iscrivete Baccarone Se l'avete ancora fatto E mi raccomando Consigliatemi Qui sotto nei commenti Altri challenge Che potete fare Sempre su Fortnite Chiaramente in Unreal Perché io voglio Fare le cose Molto difficili Ora bene ragazzi Noi ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate Perché chiaramente Ci vediamo In un prossimo video Dalla vostra Creatomist È tutto Bella a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.